Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca è stata sequestrata da Arezzo la sede di un'azienda specializzata nella manutenzione del verde che ha eseguito lavori per varie amministrazioni pubbliche oltre che privati dopo le indagini portate avanti nelle scorse settimane dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura. Una misura disposta dalla GIP lo scorso 26 luglio. I reati ipotizzati a carico di due persone vanno dall'illecito edilizio a quello paesaggistico passando per la gestione non autorizzata di rifiuti. L'azienda infatti secondo la ricostruzione dell'accusa cedeva ad agevolazioni tramite una società agricola ma quest'ultima sarebbe stata fittizia. Nei 60 ettari di campo a disposizione molti dei quali affittati alla chiesa non c'erano coltivazioni. E il pericolo truffe invece non va in vacanza, anzi nei mesi estivi può bussare alla porta con maggiore facilità. Per questo motivo con l'inizio del mese di agosto Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe a domicilio e telefoniche online in materia di energia elettrica e gas. Chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia fa sapere l'azienda deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Il cliente per un'ulteriore verifica può anche telefonare al numero verde dell'azienda. E a proposito di truffe a domicilio, Enel Energia segnala che nei propri dipendenti, negli agenti specializzati si occupano di sostituzioni di contatori. Per quanto concerne infine le truffe online, l'azienda raccomanda di prestare molta attenzione ad eventuali richieste via mail di codici personali o dati riservati. Un'altra allarme invece arriva dalla Valtiberina dove un cane è stato aggredito da una pitbull. È successo nella zona del Campaccio, fortunatamente l'animale che è stato ferito è stato salvato e adesso sta bene, ma dall'EMP arriva un appello sulle adozioni consapevoli. Non bisogna mai prendere o adottare un cane con superficialità, dicono, per il bene dell'animale stesso e ovviamente degli altri bisognerebbe rivolgersi sempre ad una persona qualificata che possa aiutare nell'educazione e nell'addestramento del cane. E adesso voltiamo pagina per parlare di reddito di cittadinanza. I messaggi di sospensione anche ad Arezzo stanno arrivando in queste ultime ore tra qualche preoccupazione e qualche caso di smarrimento. C'è dello smarrimento nel senso che alcuni non sapevano proprio di questa sospensione, altri non avevano ben compreso questa sospensione e quindi, diciamo così, il nostro lavoro in questi giorni è cercare di far comprendere il contenuto di questo provvedimento. Sono arrivati in queste ore i fatidici messaggi di sospensione, gli sms inviati dall'Inps. A dire così addio al reddito di cittadinanza saranno anche molti aretini. Le persone che poi beneficiano di questo aiuto economico in provincia sono circa 4.500, proprio in virtù del fatto che chi usufruisce del reddito di cittadinanza non è riferita alla sua condizione personale, ma bensì alla condizione di un intero nucleo familiare. Si tratta della prima tranche del provvedimento. I primi esclusi sono infatti i cosiddetti occupabili, nuclei familiari in cui non ci sono minorenni, over 60 o persone con disabilità. Per tutti gli altri casi resterà in vigore fino a dicembre e da gennaio sarà convertito nel nuovo assegno di inclusione, dove prevede alcune tipologie di requisiti che un po' assomigliano al precedente reddito di cittadinanza, altri invece varieranno. Per i percettori considerati occupabili, quest'anno il sussidio durerà sette mesi, in attesa che diventi operativo dal 1 settembre il supporto alla formazione e al lavoro. Delle ripercussioni economiche sì, evidenti ci saranno, perché probabilmente anche il nuovo strumento di supporto a formazione e al lavoro si parla di cifre che dovrebbero arrivare a 350 euro rispetto a quello che precedentemente magari un soggetto ha percepito, un nucleo familiare ha percepito, che potevano essere un minimo di 500-600 euro. Nel momento dove la povertà sta aumentando, intervenire e tagliare questi strumenti è di fatto colpire la povertà che è una condizione che nessuno di noi vorrebbe. Chi si vedrà ritirato il reddito di cittadinanza si troverà anche senza l'assegno unico per i figli. Chi era titolare di reddito di cittadinanza era contenuto all'interno e quindi chi si vedrà sospeso il reddito di cittadinanza dovrà provvedere anche a fare una vistanza di assegno per percepire il pagamento in maniera diretta. Sul tema interviene anche la regione toscana. Un'iniziativa di questo tipo ha dichiarato il presidente Eugenio Gianni in un momento estremamente delicato dal punto di vista economico e sociale può generare non solo evidenti ed importanti criticità ma anche episodi di violenza contro operatori e figure di supporto più vicine ai cittadini. Un rischio concreto che deve essere arginato. Promuoverò, aggiunge poi l'assessora regionale al sociale Serena Spinelli quanto prima un incontro tra la presidente dell'ordine degli assistenti sociali e le direttrici dei servizi sociali per avviare un monitoraggio sull'impoverimento delle famiglie e sulle condizioni di lavoro degli assistenti sociali ma anche per operare in modo efficace sulla necessità di strumenti e risorse adeguate. E sempre dalla regione toscana arrivano anche 150.000 euro in provincia di Arezzo per le telecamere di sicurezza di alcuni centri abitati del territorio. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza e ai reporti coeglienti locali Cioffo ha approvato la gradatoria con la quale si assegna una totale di 153.396 euro ai comuni di Lorociuffenna, Capolona, Castelfranco Piandisco, Arezzo, Monte San Savino, Sestino e Subbiano destinandoli alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. E adesso torniamo a parlare invece della vertenza FIMER-Slitta, l'incontro di domani tra i lavoratori e i rappresentanti del fondo Clementi. Vediamo il servizio. Intanto avevano scelto Clementi, quindi mi piaceva mettermi a un tavolo a parlare con Clementi per capire qual è il programma e qual è il progetto. Certo scoprire oggi l'incontro non c'è, non ci mette per i trascorsi e per le esperienze che questa vertenza ci ha insegnato di buon umore. Era un punto di partenza, speriamo sia solo un leggero ritardo. Era in programma per mercoledì 2 agosto l'incontro allo stabilimento FIMER di Terra Nuova Bracciolini tra i rappresentanti del fondo Clementi e i lavoratori, un appuntamento slittato per motivi improrogabili. C'è molta attesa anche perché definita una volta la scelta dell'investitore si tratta di vedere i tempi e le modalità nei quali l'investitore metterà soldi a disposizione prima come finanza interinale e poi quale progetto politico-industriale si svilupperebbe successivamente. Quindi c'è attesa proprio per conoscere e nell'attesa c'è come la speranza che non ci si ritrovi di fronte a un ennesimo spiacevole teatrico. Il fondo inglese ha messo sul piatto della bilancia 17 milioni per la ripartenza dello stabilimento e 96 complessivi, 5 poi da erogare entro il 6 agosto, mentre la data cruciale è quella del 21 agosto prossimo, giorno dell'udienza al Tribunale Fallimentare di Milano per il via libero o meno al concordato. Ovviamente la richiesta della presentazione di nuovo concordato sta nella misura in cui ci sia l'intervento dell'investitore e la presentazione di un piano operativo entro il 21 agosto. Le prossime settimane saranno dunque decisive per il futuro dell'azienda che attualmente lavora a basso regime. Perché ovviamente non avendo un'immissione di capitali funzionale all'acquisizione della materia prima necessaria per lavorare e non avendo più nemmeno la possibilità della finanza d'emergenza, le risorse sono molto risicate. Parliamo dei risparmiatori dell'ormai ex banca Etruria. Oltre 900 ex correntisti si sono presentati agli sportelli di Federconsumatori per chiedere l'ulteriore indennizzo del 10% ad attingere dal fondo indennizi risparmiatori. I tempi stretti però decisi dal governo hanno tenuto fuori centinaia di persone che non hanno fatto in tempo a presentare domanda o a comunicare il nuovo IBAN che è cambiato per molti di loro nel passaggio da una banca all'altra. Riteniamo una dovere per il Parlamento, commenta Pietro Ferrari di Federconsumatori, tornare sull'argomento e adottare un provvedimento per riaprire termini per le comunicazioni al FIR in mancanza, la misura adottata diventa una beffa e un danno economico per i risparmiatori coinvolti. E da oggi scatta anche l'obbligo di cartello del prezzo medio, una misura sulla quale è intervenuta Confesercenti. N giorni di rincari per i carburanti che arrivano i cartelli con il prezzo medio nazionale. Come previsto dal decreto approvato dal governo Meloni a gennaio scorso, parte dal 1 agosto il nuovo obbligo per i gestori che d'ora in poi dovranno esporre il prezzo medio dei carburanti accanto a quello di vendita in ogni distributore di benzina. Un provvedimento al quale i benzinai si erano posti ma che il Tar del Lazio ha respinto e sul quale adesso interviene la FAIB Confesercenti. Siamo favorevoli al monitoraggio attento sul territorio, commenta il presidente provinciale Claudio Marraghini, ma diciamo no agli accanimenti sanzionatori. Ci tengo a precisare che non sono i gestori a speculare, il rischio, sottolinea poi, è che si realizzi quello che le associazioni di settore avevano denunciato nei mesi scorsi, ossia un allineamento verso l'alto del prezzo medio. Ci sono ancora poi sul territorio, anche provinciale, diversi impianti che non sono stati riforniti dai cartelli dalle compagnie e che l'introduzione di questo strumento coincide con il periodo feriale anche per i gestori che, in caso di chiusura del punto vendita e in assenza del servizio, non hanno obbligo di aggiornare i cartelli. Ribadiamo che nei distributori non è in atto alcuna speculazione, aggiunge Lucio Gori, responsabile della Confesercenti Arezzo. I gestori adottano infatti prezzi raccomandati dai fornitori, prezzi che stanno lievitando per effetto delle quotazioni internazionali e sulle autostrade anche per effetto delle royalties dovute alle società concessionarie delle tratte e per la mancata riforma. È dunque necessario, concludono, mettere mano con urgenza ad una riforma generale del settore che ripristini la piena legalità contrattuale e accompagni il processo di transizione energetica. Cambio al vertice dell'emergenza urgenza dell'Asla Toscana Sud-Est. È infatti il dottor Mauro Breccia, il nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, che succede alla dottor Massimo Mandò in pensione da oggi. Breccia, già direttore dell'area dipartimentale pronto soccorso e medicina d'urgenza e area provinciale Grossetana, raccoglie dunque il testimone di uno dei più delicati e cruciali ambiti sanitari della Sud-Est, finora guidato con ottimi risultati dal dottor Mandò. È in città invece una polemica si è accesa attorno alla fondazione Guido d'Arezzo. Con tre votazioni all'unanimità, la Giunta ha approvato altrettante delibere che in totale hanno destinato 270.000 euro alla fondazione. Contributi concessi per tre specifiche richieste, l'acquisto di un palco, gli adeguamenti e le manutenzioni alla Galleria d'Arte di Piazza San Francesco e l'organizzazione dell'estate in fortezza. Questi si aggiungono poi alle 100.000 euro che sono state approvate invece nell'ultimo Consiglio Comunale per la realizzazione di una stagione concertistica del secondo semestre 2023. A chiedere chiarimenti erano stati consiglieri comunali di Scelgo-Arezzo. Tra Consiglio Comunale e Giunta hanno dichiarato si sussegue uno stilicidio di provvedimenti e delibere che con puntualità aggiungono risorse a quellente. E restando in tema tra gli appuntamenti organizzati dalla fondazione Guido di Arezzo per il calendario estivo, anche il concorso polifonico che è stato presentato questa mattina. Siamo arrivati alla 71esima edizione, il polifonico sembra proprio godere di ottima salute perché quest'anno l'edizione è ricca in termini di tempo di esecuzione, di qualità dei cori e di difficoltà del programma. Sei giorni di concerti, concorsi, workshop e approfondimento sul mondo della coralità a livello internazionale. Dal 22 al 26 agosto torna così a D'Arezzo la settimana del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Anche quest'anno con un rinnovato interesse nei confronti della manifestazione attestato dalla presenza di ben 13 cori in concorso. Avremo un convegno dedicato alla musica corale del Novecento, una masterclass per la scuola per direttore di coro in cui verrà a gestire tutto il lavoro il maestro Ambros Ciopi che è uno dei migliori professionisti del campo dalla Slovenia col suo coro universitario che ha appena vinto il premio come miglior coro del mondo al concorso internazionale di Hong Kong. Lo stesso coro farà il concerto inaugurale alla chiesa di San Domenico il 23 sera. Poi inizia il vero e proprio concorso al Cowroom Hall, quindi all'auditorium Guido d'Arezzo in cui è stato rimesso in funzione questo spettacolare meccanismo di riverberazione computerizzata che offrirà al pubblico un'esperienza d'ascolto veramente interessante. Sabato alla mattina si chiuderà il concorso e al pomeriggio ci sarà il Gran Premio Guido d'Arezzo dove i migliori cori si contenderanno l'ultimo importante premio che permetterà loro l'anno prossimo di andare a incontrare gli altri cori che hanno vinto nei nostri concorsi partner a livello europeo. Siamo di fronte ad un'edizione veramente internazionale che tocca praticamente tutti i cinque continenti che è nelle condizioni di essere un luogo e un momento di certamente esibizione ma anche di approfondimento culturale ma anche di confronto tra tecniche nuove e scienza intorno alla musica. La diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro è pronta a celebrare il patrono Sandonato. Arezzo è pronta a rendere omaggio al suo patrono Sandonato, l'apostolo della Tuscia che con la sua opera di annuncio del Vangelo ha convertito questo angolo di Toscana. Le celebrazioni inizieranno domenica 6 agosto alle 17 quando il concerto Le Ore d'Organo proporrà musica sugli organi della cattedrale. Si tratta del primo concerto che inaugura un nuovo appuntamento fisso che si ripeterà tutte le prime domeniche del mese in concomitanza con la fiera antiquaria. Alle 18 poi la messa preseduta dal vescovo Riccardo Fontana seguita alle 21 e 15 dall'offerta dei ceri votivi da parte dei comuni della diocesi. Come ogni anno la cerimonia sarà seguita da uno spettacolo pirotecnico a cura del comune di Arezzo. Il giorno seguente, solennità di Sandonato, le celebrazioni si aprono alle 7 con le lodi e la messa in cattedrale. Si ripeteranno poi alle 8, alle 10.30 e alle 12. Alle 11 il vescovo Andrea Migliavacca sarà invece alla pieve di Santa Maria che custodisce un busto reliquiario del santo per una messa. Tra le varie iniziative quest'anno ci sarà anche l'intitolazione a Sandonato della terrazza del palazzo della provincia di Arezzo. Culmine della giornata la celebrazione liturgica preseduta dal vescovo Andrea Migliavacca alle 18 nella cattedrale di Arezzo. Ci spostiamo adesso in Valdichiana. È stato infatti Michele Placido a chiudere la nona edizione del Castiglioni Film Festival. Salendo qua verso la piazza dove ho ammirato questa vetusta torre che ha un'origine etrusca, non me l'aspettavo. E poi la loggia del Vasari qui, che è là verso l'Umbria. Qui invece ti affacci verso il Senese, dico bene, se le informazioni mie più o meno è un territorio meraviglioso. Michele Placido affascinato da Castiglioni Fiorentino. Qui era già stato 40 anni fa a teatro ed adesso è tornato per il gran finale della nona edizione del Castiglioni Film Festival. Il piazzale del Cassero ha così accolto uno dei protagonisti della storia del cinema italiano degli ultimi 50 anni. L'attore e regista sul palco ha parlato della sua pellicola, poi proiettata, L'ombra di Caravaggio. Siamo andati nei carteggi che ci sono, su quelle che sono state le sue vicende straordinarie sul piano della pittura, ma soprattutto sull'uomo, sull'uomo che è stato un pittore che ha rivoluzionato la pittura del Seicento. Ha annunciato poi un film sulla vita nascosta di Luigi Pirandello. È un viaggio in treno dove lui va a prendere il Nobel e durante questo percorso, questo viaggio verso Stoccolma per accogliere il premio più straordinario che si possa dare a uno scrittore vede un po' il falimento della sua vita sentimentale, della sua vita affettiva per aver trascurato la famiglia ai figli. Il cinema ha questa funzione, di rivelare chi c'era dietro l'uomo Pirandello, una grande famiglia che ha avuto un vissuto molto difficile sia nei rapporti con i figli, ma poi soprattutto la grande storia d'amore con Marta Abba, sua giovane artista, sua giovane attrice. Nell'attrio d'onore della provincia di Arezzo, invece una collettiva organizzata dal Cenacolo degli Artisti Aretini. Fragmentaria, questo è il titolo della collettiva ospitata nell'attrio d'onore della provincia di Arezzo, in via Ricasoli, un'esposizione che rientra nella rassegna Tracce d'arte organizzata dal Cenacolo degli Artisti Aretini per il 2023, la quinta mostra di quest'anno. È una mostra, siamo tre pittori, io, mia moglie Lilia Manneschi e mio amico Florin Ciempueso. L'esposizione resterà visitabile sino al prossimo 9 agosto. È dedicata, è in tre parti, ha degli acquerelli e una parte dedicata alla pittura un po' astratto, surrealista, ecco, per quanto riguarda la mia parte. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio si allarga il gruppo degli Anders, sul quale l'Arezzo ha deciso di investire. Sono infatti già dieci quelli ceduti in prestito in Serie D, tenuti sotto stretto controllo in prospettiva futura. Nelle ultime ore poi la società Amaranto ha perfezionato l'acquisto di altri due ragazzi classe 2004. Uno è il difensore, Francesco Brevi, che l'anno prossimo giocherà in Serie D con la romana FC. L'altra operazione riguarda invece l'attaccante Teo Fiaschi, reduce da 16 gol con la maglia della Ziena. Verrà inserito nella stagione di Mister Violetti che punta ad un torneo di vertice. La prima squadra invece tornerà in campo domani alle 18 allo stadio Goffredo De Buffa per l'amichevole contro il Figline. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.